Musica Tanta guagna per tutti ragazzi Qui è Roxas e sono finalmente tornato dalla mia vacanza per portarvi l'ottavo episodio di Classi Overpower Devo fare come al solito una premessa perché non c'è mai un video senza una premessa per qualche motivo Allora la classe che avevate votato l'ultima volta era un over schifo con il ballista silenziatore Emilio Naltrizzio Probabilmente molti di voi sono nuovi sul canale di guagna quindi non sapete che io quel video l'ho già fatto Era il primo over schifo e quindi non potevo ovviamente rifare un video con la stessa arma Quindi ho scelto una delle mie mitragliette preferite che come potete vedere è l'MP7 Inoltre un'altra piccola premessa è che questo non è un gameplay solo ma sono due pezzi di partita Cioè due partite diverse una con un senza anima e una con un instancabile Questo perché sono tornato mercoledì, il video doveva uscire domenica Non volevo assolutamente farlo scalare di un'altra settimana dopo averlo già fatto per due volte consecutive E quindi ho deciso di unire appunto queste due belle partite Almeno questi due bei pezzi di partite perlomeno perché poi la cosa dege Oddio non mi viene la parola Fa niente Insomma le cose andranno un po' male Inizieranno per esempio nella seconda partita tutti ad usare il fucile a pompa E quindi mi bloccheranno diciamo una possibilità di nuclear Comunque partiamo con i dati magari un po' statistici sull'arma Ve li metterò anche a schermo in modo che vi rimangano più a mente Allora L'MP7 è una delle prime mitragliette ad essere sbloccate Anzi lo avrete dall'inizio Avrà un danno di 33 massimo e 18 minimo Quindi abbastanza nella media, non troppo alto né troppo basso Ha un caricatore molto ampio da 40 colpi che si aumenta a 54 con il caricatore aumentato E una portata non molto alta direi per una mitraglietta e un ratio piuttosto alto Ha una ricarica che secondo me è piuttosto veloce e quindi è un'arma molto molto versatile A me piace molto nonostante non arrivi ai livelli dell'MP7 di MV3 Intanto vi dico perché mi piace Innanzitutto il caricatore è molto molto ampio e quindi se non avete una connessione molto buona Avrete più possibilità di uccidere una persona Dato che molti colpi magari non verranno registrati correttamente dovrete spararne di più Io inoltre utilizzo quasi sempre il caricatore aumentato Perché dà questi 14 colpi in più che ci permettono di avanzare attraverso 2, 3, a volte anche 4 nemici Senza aver bisogno di ricaricare neanche una volta Inoltre ricordo che il caricatore aumentato aumenta leggermente il tempo di ricarica Ma questo non è un grande problema proprio perché la ricarica dell'MP7 è piuttosto rapida Il silenziatore secondo me è uno degli accessori migliori Di solito non lo uso sulla maggior parte delle armi Né nella MSMC, né sulla N94, né sui vari fucili di assalto Ma secondo me sull'MP7 per l'appunto sta perfettamente E un altro dettaglio molto particolare è il mirino Che è veramente veramente molto aperto E molto facile da gestire diciamo A differenza del mirino per esempio di altre armi Come l'SMR che non è proprio un grandissimo mirino Comunque questo è davvero perfetto E non ha praticamente nessuna sbavatura Ovviamente tutte le armi hanno anche dei punti deboli Quindi possiamo dire che la portata di quest'arma non è proprio la migliore E ha anche un rinculo che diciamo non è difficilissimo da controllare Perché comunque è principalmente verticale Però si sente e questo è da dire insomma Per esempio l'MSMC nonostante le varie patch È comunque più facile da gestire ecco Allora, parliamo intanto della classe Ho deciso di parlare dell'MP7 Perché per l'appunto in questo periodo sta diventando una delle mie armi preferite Perché spesso anche nei miei video Che potete trovare sul mio canale Che è come al solito in descrizione Vi ricordo inoltre che ormai sono a 960 iscritti E mi manca davvero poco per raggiungere i mille Devo ringraziare tutti voi e tutto lo staff di Guagna E quindi mi fareste un grande favore Se magari cliccaste sul link nella descrizione E andaste anche solo a visitare il mio canale E vi scriveste se i miei video vi piacciono Ovviamente non vi obbligo Però sarebbe davvero un grandissimo traguardo Per me riuscire a raggiungere questi mille iscritti E quindi beh chiedo ovviamente aiuto a voi Che siete forse quelli che sarebbero più disposti a guardare i miei video Allora siamo arrivati fino a questo punto E non abbiamo ancora parlato di qual è la classe Allora ovviamente l'arma che stavo utilizzando era l'MP7 Anche se in questo momento vedrete uno svuoto Perché l'avevo raccolto da terra E mi serveva per l'appunto per questi scontri a lunga distanza Che l'MP7 non riesce a coprire Comunque la mitraglietta era accessoriata con silenziatore E caricatore aumentato Per i motivi che ho elencato prima E avevo come prima specialità Inflessibile E antischegge Questo perché stavo di solito gioco a postazione o a dominio E prendere una bandiera senza antischegge O prendere una postazione senza antischegge È davvero un rischio Soprattutto se ci si trova davanti ai giocatori bravi Che usano spesso il C4 Inflessibile invece ci permette di guadagnare il 20% dei punti in più Su ogni cosa che facciamo Ad eccezione degli assist UAV Contraattacco e Vsat E quindi mi permette di far girare queste serie di supporto ancora più velocemente Come seconda specialità invece utilizzavo acciaio Che ci permette davvero di vincere molti più scontri a fuoco Soprattutto sempre considerando il fattore della connessione Dato che l'arma si alza molto di meno T-Black Game ha già fatto un video su cosa fa effettivamente acciaio E vi invito ovviamente ad andare a vederlo È una specialità di cui di solito non faccio a meno La seconda specialità 2 è Rush a Callo Che mi permette di recuperare queste munizioni Ma potete anche escluderla Dato che come ho già detto L'MP7 ha questi enormi caricatori da 54 colpi Vi danno inoltre varie scorte di caricatori E secondo me con i caricatori standard Senza dover sciacallare niente Potete tranquillamente arrivare a un Vsat O magari pure ad uno sciame se ve la gestite bene Comunque ricordiamo che esistono sempre le armi da terra Che si possono raccogliere La terza specialità era Destrezza Che mi permette di sollevare l'arma più rapidamente Quindi accentua in un certo senso il rushing Se invece preferite un altro setup Potete utilizzare al posto di una specialità Il C4 L'MP piuttosto che il C4 L'Astordente O magari al posto di Sciacallo Potete utilizzare Oltre Limite o Maschera Tattica Anche se è molto utile quando si gioca Nella modalità postazione E in quella dominio Allora Mi scuso perché probabilmente sentirete qualche taglio ogni tanto Ma è già squillato il telefono Mi ha già chiamato qualcuno Mi ha interrotto mia mamma Insomma c'è sempre qualcosa Quando si registra un video Questo ormai è più che risaputo E inoltre Mi scuso perché il gameplay Che in questo caso è su postazione Ha la classica tettica In un certo senso bastarda Perché uno entra nella postazione Si fa i suoi 240 punti Se sia inflessibile ovviamente Se ne esce Sta nella zona intorno alla postazione Uccide quelli che ci entrano E poi si riprende altri 200 punti Quindi È vero È una tecnica un po' malvagia Però secondo me Il modo migliore per Riuscire a fare tantissimi punti E rigirare diciamo le serie E riciclare queste serie Ancora più velocemente È sicuramente questo Comunque purtroppo Su Nuketown Sono stato costretto A girare tra le casette Quindi anche questa qua Non è una cosa molto rushata Però anche lì Uscire su Nuketown È praticamente un suicidio Soprattutto se i giocatori nemici Sono abbastanza bravi Comunque Nonostante in questo gameplay Non ci sia un particolare rushing L'MP7 È sicuramente Un'arma più che perfetta Per rushare per le mappe Ovviamente dovrete cercare Mappe più piccoline Come possono essere per esempio Rush per l'appunto Nuketown Hijacked Ho avuto modo di provare Ancora poco Quelle del nuovo DLC Comunque ci sono varie zone Di uplink E di cove Con cui si può usare Quest'arma senza troppi problemi E in ogni caso Se siete nuovi giocatori Di Call of Duty O comunque di Black Ops 2 Con quest'arma Vi troverete molto bene Per poi passare magari Ha delle armi Un po' più complesse Diciamo L'MSMC E il PDV Sono già un pochino Più difficili da gestire Soprattutto dopo Le patch Che continuano ad aumentare I vari rinculi Eccetera Inoltre Una cosa di cui mi stavo Dimenticando È che Inoltre diciamo che Avendo tutti questi colpi L'MP7 L'EAP Fire Rimane buono Rimane buono Mi è capitato spesso Di decidere nemici Anche senza Utilizzare Il mirino laser Sparando senza mirare Quindi questo è un altro punto A favore Per quest'arma Bene Il video sta per finire Spero di avervi intrattenuto Piuttosto bene Spero che siete contenti Che io sia tornato Ancora su questo canale Vi ricordo di Consigliarmi ancora La classe che dovrò utilizzare Vi dico subito le armi Allora Come mitragliette MSMC Dato che ne ho parlato Comunque anche in questo video Come fucile d'assalto Utilizziamo lo SWAT Dato che In questi In questi gameplay Comunque l'avete visto Come fucile a pompa Abbiamo Il Remington E Vediamo Come cecchino Manca solo lo SWAT Ragazzi Quindi si può usare Solo quello Diciamo E Come mitragliettrice leggera Facciamo L'AMR Dai Allora Queste sono quindi Le armi Con cui dovrete Consigliarmi Una classe Nei commenti Quella più votata Sarà quella che Utilizzerò Per il prossimo video Come sempre Vi invito Un'ultima volta A passare dal mio canale E aiutarlo A raggiungere Finalmente Questi 1000 iscritti Tanta uagna per tutti E buona giornata Paua Da GZ Roxas Ciao